I vigili del fuoco del Comando Provinciale di Salerno hanno ricevuto in dono nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza 1.500 litri di gasolio frutto di sequestri nell'ambito delle attività svolte dalle fiamme gialle in contrasto ai traffici illeciti e ai reati connessi al settore delle accise. Nell'ambito delle operazioni poste in essere dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno i militari nei mesi scorsi hanno eseguito controlli e verifiche presso una società salernitana. All'esito di un'articolata attività di indagine effettuata proprio nel settore delle accise è stato disposto dal Tribunale di Salerno un sequestro preventivo del gasolio per autotrazione che la Guardia di Finanza di Salerno ha voluto donare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno affinché possa essere utile nell'ambito delle attività di soccorso del 115. Il carburante frutto del sequestro infatti sarà utilizzato dai caschi rossi per i propri mezzi operativi finalizzati a garantire assistenza e aiuto a tutela delle comunità. A ritirare i 1.500 litri di gasolio donati dalla Guardia di Finanza il Caporeparto del Distaccamento di Policastro Alessandro Morello e il Caporeparto del Distaccamento di Sala Consiline Eugenio Siena che hanno ricevuto l'incarico da parte del Comandante Provinciale Carlo Federico per il ritiro della donazione che sarà poi messa a disposizione delle diverse strutture dei Vigili del Fuoco Salernitani. E questa è una delle attività, spiegano dalla Guardia di Finanza di Salerno che viene svolta quotidianamente dagli uomini delle fiamme gialle che oltre ad essere fortemente impegnati nei compiti istituzionali prestano particolare attenzione e dedizione alla lotta nei traffici illeciti. Tra gli obiettivi strategici del Corpo, infatti, spiegano ancora dal Comando Provinciale spicca la lotta alle frodi nel campo dei prodotti energetici che oltre a tutelare le entrate dello Stato rappresenta una garanzia per tutta la popolazione. La donazione del gasolio da parte della Guardia di Finanza concludono le fiamme gialle e un atto tangibile a tutela della collettività che contribuisce anche attraverso un breve momento di consegna a consolidare i rapporti con le altre istituzioni.